Alle 18 Atalanta-Milan a Bergamo. Partita importante per i rossoneri per continuare la rincorsa alla vetta della classifica. Soprattutto dopo la vittoria della Juventus ieri sera contro il Napoli non sono ammessi passi falsi nella partita di oggi pomeriggio. Leao e Chiar non sono stati convocati da Stefano Pioli, anche per non rischiare perché tra quattro giorni c'è un'altra partita importante in Eghilterra contro il Nucasta. Partita che ovviamente deciderà il futuro europeo della squadra rossonera sia per quanto riguarda la Champions sia per quanto riguarda l'Europa League. Ovviamente per il cammino nella competizione più importante europea serve la vittoria del Milan ma anche la sconfitta di EPSG a Dortmund. La vittoria contro il Nucastel del Milan ovviamente darebbe la certezza del terzo posto e quindi la prudo all'Europa League come consolazione al momento. Per quanto riguarda le scelte di formazione sono obbligate per Stefano Pioli visto che in difesa l'unico difensore centrale al momento è Tomori quindi giocherà nuovamente Teo Hernandez accanto al calciatore inglese con Florenzi a sinistra. Invece per quanto riguarda il tridente offensivo rientrerà Giroud dopo le due giornate di squalifica che aveva subito nella partita di campionato a Lecce e al posto di Leao ci sarà Pulis a sinistra con Ciucuezze a destra. Ore 18 quindi allo stadio di Bergamo Atalanta Milan vittoria obbligatoria per la squadra rossonera.